La martoriata ucraina ha commemorato l'Holodomor, il genocidio perpetrato dal regime sovietico che 90 anni fa causò la morte per fame di milioni di persone. Quella lacerante ferita, anziché rimarginarsi, è resa ancora più dolorosa dalle atrocità della guerra che continua a far soffrire quel caro popolo. Per tutti i popoli dilaniati dai conflitti, continuiamo a pregare senza stancarci, perché la preghiera è la forza di pace che infrange la spirale dell'odio, spezza il circolo della vendetta e apre vie insperate di riconciliazione. Oggi ringraziamo Dio perché tra Israele e Palestina c'è finalmente una tregua e alcuni ostaggi sono stati liberati. Preghiamo che lo siano al più presto tutti, pensiamo alle loro famiglie, che entrino a Gaza più aiuti umanitari e che si insista nel dialogo. È l'unica via, l'unica via per avere pace. Chi non vuole dialogare non vuole la pace. Oltre che dalla guerra, il nostro mondo è minacciato da un altro grande pericolo, quello climatico, che mette a rischio la vita sulla Terra, specialmente le future generazioni. E questo è contrario al progetto di Dio, che ha creato ogni cosa per la vita. Perciò nel prossimo fine settimana mi recherò negli Emirati Arabi Uniti per intervenire sabato alla COP28 di Dubai. E a tutti auguro buona domenica. E per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.